La Chette Gran Sasso nasce come attività della commissione di escursionismo per quanto riguarda l'uso delle ciaspole e dell'alpinismo giovanile. Non è una semplice ciaspolata perché poi colleghiamo a questa manifestazione una serie di attività che ogni anno si diversificano con delle mosche, con delle presentazioni dei libri, con dei filmati o invitando dei scrittori di montagna. La sezione ha deciso di portare su tutto il territorio aguilano questa manifestazione per valorizzare e far conoscere l'ambiente innevato. Noi ci mettiamo a disposizione perché poi il Club Alpino è un'associazione con oltre 150 anni e quindi fa cultura e sport in montagna. Grazie 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 Grazie